Alessandro Bellucci, presidente Dago Elettronica, 50 anni, 50 anni di storia e di attività per Dago Elettronica, un grande numero. È un onore poterla rappresentare come presidente, è una serata importante per noi perché festeggiamo appunto 50 anni insieme a tutti i nostri partner, i collaboratori, tutti i dipendenti che sono la nostra famiglia e il nostro orgoglio e importanti clienti che abbiamo nel territorio, ma non solo perché lavoriamo anche in ambito nazionale, il primo nostro cliente in termini anche di fatturato è l'IKEA, quindi puoi capire insomma anche a livello internazionale direi. È sicuramente una bella serata. Ma chi è Dago Elettronica? Di che cosa si occupa? Dago Elettronica è un'azienda che fa impianti speciali, impianti speciali sono tutti quegli impianti tecnologici legati all'impianto elettrico e principalmente noi siamo partiti con gli impianti di sicurezza e di automazione cancelli, che sono i primi due settori e sono ancora quelli diciamo portanti. Poi a questi si è aggiunto nel tempo la telefonia, il cablaggio strutturato, la parte elettrica, la parte di domotica, questi due settori viaggiano molto insieme per noi, fino alle tecnologie informatiche. Quindi abbiamo sei settori molto diversificati e un po' la caratteristica che ci ha contraddistinto e che ci permette di andare avanti è proprio questa diversificazione dei settori. Cioè facciamo tantissime cose con una forte specializzazione perché siamo comunque molti, abbiamo creato proprio dei settori specializzati che però lavorano tutti insieme.